Il tuo primo giorno in bianconero immagino che tu sia attraversato da una tempesta di emozioni. Ma sì, sono tante emozioni e devo ringraziare tutti quanti perché appena sono arrivato c'era tanta gente ad accogliermi, mi ha fatto subito sentire il calore, perciò voglio veramente ringraziare tutti e voglio mettermi a disposizione del mister e della squadra. Adesso la Juventus 7.2 di Carrarini, capitano Gianluigi Buffon ha sempre espresso nei tuoi confronti delle parole stupende, vuoi rispondere a Gianluigi? Ma io l'ho detto sempre e l'ho sempre ripetuto che Gigi è un esempio, ma non solo per me, credo per tutti quanti, sia a livello nazionale ed internazionale, poi non ne parliamo nella mia città che siamo talmente così pochi e poi vederlo lì, lui ha addirittura vinto il campionato del mondo. Adesso sarà anche il mio capitano, oltre a quello della nazionale, perciò le voglio dire grazie. Federico Bernardeschi, benvenuto, come si dice in questi casi, fino alla fine. Forza Juventus! Grazie a tutti!